Calando le reti nel fondo del nostro passato Un breve documento che non ha la forza delle armi, né il peso del potere. Chi lo ha realizzato parla di un piccolo bacio di addio a cinque uomini, lavoratori silenziosi del mare, che vagano invisibili nell'immensità delle acque. La produzione della Digressione Music, la regia di Donatella Altieri, un DVD con un videoclip che racconta la tragedia del Francesco Padre, il moto peschereccio di Molfetta, fondato in circostanze ancora misteriose, il 4 novembre del 1994, a largo delle coste del Montenegro. Per gli autori, le famiglie dei marittimi, si tratta di un altro tentativo, l'ennesimo, per fare in modo che la storia non venga dimenticata. La memoria aiuta, certo, il resto lo deve fare la diplomazia, cercare cioè di non rendere vane da parte dell'Italia le richieste ai governi degli Stati Uniti, Serbia e Montenegro di acquisire informazioni sui mezzi che operavano nel mare Adriatico quando l'imbarcazione colò a picco, eravamo nel pieno della guerra nei Balcani. Al momento queste carte non sono arrivate, quasi si fosse alzato un muro di gomma difficile da abbattere, c'è il rischio che l'inchiesta sia nuovamente archiviata e la verità tenuta ancora nascosta, dicono a Molfetta, negata dall'arroganza del potere. Il peschereccio trasportava esplosivi, si disse in un primo momento, secondo la tesi della difesa, la deflagrazione sarebbe stata preceduta da un attacco armato. E la musica del DVD diventa quindi un triste lamento, scritto sulla copertina, sussurrato alla coscienza di chi può, di chi sa e di chi deve. Che il pensiero non lo puoi affondare, il mare...